buonasera siamo qua con giumpa lairi siamo qua e siamo distanti perché giumpa dove sei adesso sono a Princeton a Princeton che sono le 9 di mattina sì sono le 9 di mattina ho fatto colazione qui invece andiamo verso la cena ormai ci avviamo nel pomeriggio sono le piscine del pomeriggio stiamo vedendo un po' questa conversazione che volevamo fare in occasione di scarabocchi allora vorrei partire un po' dalla tua infanzia di cui si intravede qualcosa insomma nei libri che è scritto e recentemente è stata ristampata in italia la interprete dei malanni ecco lì si vede qualcosa in forma di questa infanzia nata a londra da una famiglia bengalese poi cresciuta negli stati uniti e poi com'è stata questa infanzia diciamo triangolata tra questi tre diversi paesi di cui due di lingua inglese anglosassone e invece questa lingua bengalese quel triangolo c'è sempre stato nel senso non solo un triangolo linguistico culturale ma anche letteralmente nel senso tornavo spesso da bambina a calcutta un paese molto diverso radicalmente diverso e quindi ho percepito fin dall'inizio una tensione molto cioè ben articolata come dire fra proprio due mondi abitudini abitudini modi di vivere pensare e mi ha regalato credo una sempre una doppia prospettiva e questa prospettiva questa doppia prospettiva appunto che è molto disorientante che è molto importante ti regala alla fine uno sguardo diverso e quindi ho scritto quei racconti i primi racconti proprio per aprire una scatola molto privata per anni c'è una scatola con queste due prospettive lì dentro è tutta la confusione che nasce da un'infanzia del genere sì la lingua certamente è la cosa più diciamo più immediata che viene in mente insomma essendo due lingue così così diverse radicalmente diverse ma io ti chiederei invece delle immagini ecco cioè ti chiederei che ruolo hanno avuto le immagini della tua infanzia ecco immagini non solo diciamo dei libri o nei libri ma in generale ma io ero molto influenzata nel senso che tutta la linea materna è una linea molto creativa nel senso che mio nonno mio nonno materno era un pittore non famoso ma affermato avevo studiato vinto qualche premio avevo da bambina i suoi medagli e altri riconoscimenti è stato molto importante per mia madre quando tornavo a Calcutta lei portava indietro le sue acquarelle immagini e altre cose che poi abbiamo portato qui negli Stati Uniti dal corniciaio e mi ha colpito tutto questo sforzo per mantenere esporre a casa nostra una sua immagine poi anche suo figlio cioè il mio zio materno il fratellino di mia madre anche lui era un artista insomma faceva tante cose disegnava le copertine dei libri era anche fotografo dipengeva quindi ho tanti tanti ricordi di lui davanti al cavaletto poi i clienti che venivano a casa per chiedere questo quello c'è una pubblicità di me per un non so farmaco qualcosa con una mia foto quando aveva cinque anni quindi ero molto ho assaggiato un po' un po' quel mondo artistico creativo eccitante da bambina però non qui non in America in America quasi zero ma in India sì e noi portavamo per esempio ogni volta che andavamo mio zio cioè ho perso il nonno quando avevo cinque anni quindi ho pochi ricordi di lui però le immagini invece no e invece per mio per lo zio portavamo i colori matite speciali tutte tutta 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 questa roba che lui chiedeva no cioè portami questo portami quello quindi andavo con mia madre in questi negozi speciali per comprare sì e perché poi tu sei diciamo piegata nel ramo parole invece che in quello delle immagini anche se poi immagini ti chiede una cosa specifica sulle immagini perché sono hanno dominato le parole piuttosto che le immagini nonostante questa idea materna non lo so perché speravo disegnavo da bambina volevo molto cioè mi piaceva molto in realtà ero più a mio agio mi trovavo più mi trovavo meglio in realtà con le immagini però scrivevo da bambina scrivevo questi racconti o romanzi nella mia testa nei quaderni che che procuravo dalla scuola e poi tutti questi racconti avevano anche delle illustrazioni insomma quindi diciamo che anche fino all'università il primo anno dell'università ho scelto il primo semestre un corso per disegnare dal vivo cose del genere sono andata al college a barnard college a new york la parte femminile della colombia quindi andavo ai musei per disegnare copiare queste cose qua perché ero molto ripeto cioè l'attività di dello zio che secondo me è stato per me molto molto importante vederlo al lavoro alle prese con tutti i suoi progetti quindi ci tenevo ci tenevo però alla fine ovviamente la mano non se non produce il risultato desiderato ecco ho preso un'altra 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 piega quanto sono ancora importanti diciamo immagini disegni nel tuo lavoro di scrittrice delle cose nascono dei racconti dei testi nascono dalle immagini nascono dal visivo o invece nascono più dalle parole dalle parole che appunto come hai detto prima i romanzi che scrivevi nella tua testa ma tutte e due le cose no c'è la scrittura nasce da varie fonti nel senso un sogno che cos'è un sogno un miscuglio di immagini parole un dialogo una sensazione anche e quindi però io credo che la scrittura sia una forma di bisogna sempre vedere no è una è una prospettiva la scrittura ecco è una prospettiva e che cos'è una prospettiva bisogna guardare studiare vedere poi mi interessano molto una serie di artisti scrittori scrittori che erano prima pittori oppure che hanno mantenuto sempre un rapporto molto interessante un rapporto ibrido ecco con anche faccio qualche esempio buzzati no l'ala romano che passa da dalla pittura alla scrittura di nuovo una doppia prospettiva no anche d'artista in questo senso e poi ho tanti 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 amici artisti pittori persone che sono hanno scelto invece quella quella strada lì e poi rispondo molto ancora c'è vado per se se non scrivo vado nei musei no è un mio nutrimento è molto e fa parte della mia sì della mia base come dire da sempre sì tu hai dedicato tra l'altro un libro che si chiama il vestito dei libri alle copertine dei libri ecco è abbastanza curioso perché non sono molte le persone che gli scrittori cioè gli scrittori amano la pittura l'arte come stai raccontando anche tu scelgono anche le copertine dei propri libri però insomma da lì a scriverne un intero libro insomma da dove è nato questo questa idea di di occuparti delle copertine perché da da anni mi dava fastidio la realtà cioè di 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 non poter scegliere di non avere una voce e vedevo nelle mie copertine che alla fine un etichetta no se parliamo di levi se torniamo al nostro alla nostra conversazione continua su primo levi e il fatto che lui no cioè lui non sopportava le etichette voleva sempre scansarle e quindi ecco la copertina è sempre un etichetta ed è da una definizione al libro e ha molto potere anche no per chi vede il libro che per chi va in libreria che chi fruga in una libreria compresa me no perché ovviamente no per me è molto importante l'immagine oppure anzi togliere la specificità quindi o l'uno l'altro però io mi trovavo invece una situazione con tante copertine che non mi piacevano per niente per me in più c'è la questione dell'identità perché chi sono ho questo nome ho quest'immagine la foto poi il mondo dei miei libri e poi c'è c'era c'è ancora spesso questo scarto strano fra il libro il contenuto del libro il mondo del libro e l'immagine cioè per esempio l'omonimo il secondo romanzo che scrivo che praticamente è ambientato la maggior parte negli stati uniti e parla di un ragazzo della seconda generazione con genitori bengalesi però che cresce nasce no è nato cresciuto nei stati uniti e tutti i suoi problemi e poi vedo queste copertine stra cioè elefanti le banane eccetera che non non c'entra e anzi da una un'impressione cioè sbagliata fuorviante e quindi però per vendere libri perché ovviamente tutto non fa parte della vendita fa parte di della campagna per lanciare il libro per attirare lettori per per ecco per incasellare il libro incasellare l'autore l'autrice e quindi questo impulso mio per no da sempre cerco di evitare scansare resistere a tutte queste etichette è una mia missione faccio quello che posso non è sempre non è facile ancora tuttora devo un po notare per per l'immagine secondo me giusta e poi mi colpisce molto perché in italia per esempio gli autori spesso hanno più libertà e negli stati uniti almeno nelle mie esperienze per anni ci dico per primi tre libri praticamente non avevo non era una scelta mia certo volevo sì il festival di scarabocchi così è il suo titolo sottotitolo è il mio primo festival è dedicato appunto a questo disegno spontaneo non normato che tipico dei bambini ma anche praticato dagli adulti intanto voglio sapere se ti capita di scarabocchiare ancora anche adesso se fai degli scarabocchi sui margini che sono dei libri o mentre parli al telefono mentre ascolti una persona sui fogli ma quanto mi piacerebbe ancora mantenere un piccolo quaderno con i miei schizzi cose del genere cioè io ammiro molto molto mia figlia che ha 15 anni quasi 16 anni e lei ha preso la disciplina l'abitudine di disegnare quindi se lei si trova davanti alla tv al no l'album disegna ed è molto brava fra l'altro io non ero tanto non ero brava capivo no di non essere molto brava per cui tuttora se disegno faccio no mentre mi trovo in una riunione prendo appunti durante un discorso forse non tanto stimolante quindi la testa va dall'altra parte oppure vedo un albero che so cerco un po si di catturare in qualche modo quello che quello che vedo sto per insegnare la settimana prossima i diari di kafka e lui era favoloso no perché nei diari si vede si vede il suo talento anche da da quel punto di vista ci sono schizzi cose interessanti e quindi il mondo ideale avrei avuto anch'io un talento discreto invece quello che faccio a parte questi tentativi molto insomma non particolarmente riusciti ma quello che faccio con una certa serietà e sono i collage i collage quindi i ritagli che che mettono una una scatola infatti qui dietro ho questa scatola posso farvi vedere questa scatola rossa e lì dentro metto tutte queste cose che mi piacciono del genere e poi faccio bigliettini cosette per gli amici e questa è una mia piccola passione diciamo legata al mondo alla mia identità più artistica ed è continua quindi meno paura ecco i scarabocchi dei tuoi figli quali io è capitato varie volte se forse un po meno qualche anno fa si andava nelle case e nella stanza dei bambini c'erano i quadretti coi disegni o gli scarabocchi disegni insomma messi dentro queste cornici al vivo come si dice insomma col vetro ecco anche tu come madre hai tenuto questi disegni allora i miei figli hanno frequentato per il mio figlio per la loro infanzia un po spezzata fra roma e gli stati uniti ma insomma in a new york frequentavano una scuola stineriana e lì c'è un uno slancio molto molto forte no verso le immagini cioè io mi ricordo andavo nella nell'aula di di ottavio mio figlio vedevo come la maestra disegnava queste queste cose per studiare per esempio le api lei faceva questi disegni straordinari sulla c'è la lavagna aveva questa questa immagine un capolavoro e lei non so si impiegava che so giorni no per per montare questi queste immagini che poi ovviamente cancellava e quindi loro hanno hanno avuto sì un'esperienza particolarmente secondo me legata all'importanza di esprimersi in questo senso quindi noi avevo avevo avevamo abbiamo ancora sì certo delle immagini anche incorniciate acquarelle altre cose e poi mio figlio invece ha partecipato a tutta questa attività però non è una sua passione invece mia figlia si ha preso questa questa questo interesse e quindi lei chiede per i suoi compilanni chiede un po come mio zio prima ora non c'è più ma lei chiede a questi questi colori questo tipo di questa carta qua questi no quindi mi piace la sua determinazione la serietà ecco con cui lei affronta questa conoscendoti insomma frequentandoti vedendo di varie volte si è colpiti dal fatto che comunque l'aspetto visibile connota molto molto la tua persona mi riferisco ad esempio ai tuoi modi di vestire si questa questa grande attenzione che ai colori ai tessuti agli abiti agli accostamenti e cosa si intravedeva un piccolo disegno colorato del tuo abito che stai indossando adesso ecco questo ma ti manifestano un appartamento faccio vedere ecco misoni sono sono tutto questo secondo te ecco è la cultura visiva diciamo dell'india o appartiene a qualcosa d'altro insomma è qualcosa usiamo questo termine molto vago orientale ecco nell'aspetto visivo tu conservi diciamo sia anche nella tua persona fisica nel tuo viso e i tuoi capelli questo aspetto indiano comunque orientale ecco quante importanza hanno avuto appunto per esempio i colori nella tua vita direi un'importanza una grande importanza nel senso innanzitutto c'è quello che dicevo prima all'inizio della nostra conversazione questo contrasto quasi sconvolgente fra calcutta la città dei miei genitori dove andavo in visita per passare però mesi quindi questa città stra vivace a confronto un posto piccolissimo universitario nel New England negli Stati Uniti nel Rhode Island vicino al mare un oceano anzi vicino all'oceano l'Atlantico un Atlantico sempre grigio il cielo sempre spesso nuvoloso è una vita diciamo scolorita non solo letteralmente una vita scolorita rispetto alla vita di calcutta è una vita che sopportava non tanto bene mia madre per esempio lei che era così legata alla sua città così vivace così con questi colori che si vedono anche per strada i colori dei sari cose del genere e io avevo grazie a quella doppia prospettiva c'è l'idea cioè di vedere mia madre per esempio al supermercato negli Stati Uniti negli anni settanta no c'è tutte queste persone vestite in maniera molto diversa no non con questi colori accessi o con c'è la seta queste stoffe anche e quindi questo direi questo contrasto sì fa parte della mia formazione e poi direi aggiungerei un punto che riguarda le donne le donne indiane almeno cioè sapevo da bambina ok la sposa che mette il rosso poi se si perde il marito la vedova mette un sari bianco e cosa vuol dire poi anche certe tendenze per esempio mia madre che ha una pelle più scura diceva no su di me non mi valorizzano certi colori quindi era molto sensibile ecco lei a queste cose forse ho assorbito un po' quello che diceva e anche vedevo in India questa idea di ah su di te questo colore sì questo colore no poi mi ricordo per esempio vado all'università a 18 anni vado a New York dove mio figlio poveretto sarebbe dovuto andare anche lui due settimane fa invece è bloccato in casa a studiare per via di questa pandemia e vado all'università e decido no devo vestirmi sempre in nero tutto nero tutto nero quindi butto tutti i miei vestiti colorati perché volevo essere una donna 18enne sofisticata urbana e vedevo tutte queste altre e le mie compagne all'università con questo look molto insomma un po' più molto più grintoso anni 80 ecco e quindi volevo un po' assomigliare invece invece i colori ti distinguono no è ancora noto in America anche a Roma anche a Roma devo dire quest'estate ho avuto ero a Trastevere dove abito e camminavo per strada ed era agosto Roma deserto Roma deserta una Roma deserta eccetera e vedo questa signora indiana credo aveva questi abiti così colorati così vivaci e ovviamente spicca no anche a Roma che è una città piena di colori di un altro tipo rispetto a Calcutta certo però rispetto a qua risotto a Princeton dove mi trovo adesso è una città che che ha un'identità legata ai colori no ai colori dei palazzi la duce eccetera c'è poi una città straordinariamente bella e il tuo colore preferito quale sarebbe giunta io vado sempre verso tutti i verdi perché amo il mare più di tutto amo il mare quindi qualunque colore che possa per me richiamare in qualche modo no il mare quel blu 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 verde verde blu non so c'è un non c'è un colore in particolare però noto se sono costretta a scegliere per esempio anche una cosa stupida vado verso il verde spesso tu lo sai che il colore dell'acqua per noi oggi è il blu azzurro per i mediovali era verde certo che se si va nei mari verso la Grecia al sud dell'Italia diciamo si trascolora dal verde al blu come dicevi tu il verde non ha avuto molta fortuna anche se il colore è più diffuso perché basta guardare fuori insomma la natura è totalmente verde senti volevo avviarmi verso la conclusione mi hai mandato una poesia che non avevo letto merina che tu hai pubblicato su nuovi argomenti e che da quello che mi hai scritto ha a che fare con il libro che dovrebbe uscire prossimamente il prossimo il prossimo giugno e dove questa poesia comincia con una persona che usa questo dito sul vetro appannato e fa dei disegni o scrive insomma ecco da dove è nata questa questa immagine di scarabocchio scivoloso diciamo tutto il verso che intacca e chiarisce allo stesso tempo sicuramente a Roma perché c'è la poesia è nata a Roma perché tutto il libro è nato a Roma un paio d'anni fa e probabilmente c'era un po' di vapore non so una mattina e ho avuto questo quel ricordo lì oppure ero in macchina non lo so non mi ricordo però poi suscita un ricordo così potente ogni tanto l'idea di essere in macchina sei piccola stai andando da qualche parte i tuoi genitori stanno guidando non hai nessuna idea della strada della destinazione col dito fai un'apertura per vedere fuori cosa c'è fuori boh non lo so però l'idea di essere scrivo nella poesia l'idea di essere indisciplinata anch'io dico alla fine della poesia quindi per me ovviamente è stato un modo per rompere quella vaghezza per dare un mio segno è anche l'impulso di vedere cosa c'è al di là di un di quel vetro appannato allora leggo questo pezzettino non so se lo leggo bene ma insomma segnare lo specchio umido scarabocchio scivoloso che intacca e chiarisce allo stesso tempo facevo faccine sorridenti cuori svidenti chirigori giovanili scorci sinuosi che precipitavano in parte cosa c'era fuori che precisavano scusa in parte cosa c'era fuori traccia fantasma priva di inchiostro ecco il chirigoro scarabocchio è fatto con l'inchiostro ma si può fare anche come ci racconti sul vetro di un'automobile o del vetro appannati di casa senti ti ringrazio molto per questa conversazione e niente ci speriamo di vederti presto di rivederci anche qui in Italia e allora auguri per per i corsi che stai per iniziare immagino che li farete online o almeno si si faccio tutto online purtroppo grazie a voi vi lascio magari con il colore dello studio che ho qua questo è lo studio che ho a casa e ho scelto questo colore non so se si vede questo blu dietro i libri ecco c'è una striscia là però comunque è un blu che ho scelto ecco non so se si vede bene ma è un blu che ho scelto per richiamare a proposito del mare il mare di Giannuttri che è uno dei un mare particolarmente stupendo e quel blu intenso mi colpisce ogni tanto ogni volta scusate anzi che andiamo lì a fare una gita in barca e quindi ho scelto questo colore giusto per richiamare quell'esperienza di essere in acqua in quell'acqua lì il blu di Giannuttri allora ti aspettiamo grazie Marco è sempre un piacere ciao ciao a tutti ciao 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 ciao